ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco le voto stosse dompe farmaceutici spa l'ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è le voto stosse confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere le voto stosse durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmaco dinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è le voto stosse le voto stosse è un farmaco a base del principio attivo levodropropizina appartenente alla categoria degli antitossivi e nello specifico altri sedativi della tosse è commercializzato in italia dall'azienda dompe farmaceutici spa le voto stosse può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni le voto stosse 60 mg barra ml gocce orali soluzione flacone 30 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare dompe farmaceutici spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo levodropropizina gruppo terapeutico antitossivi forma farmaceutica gocce indicazioni terapia sintomatica della tosse posologia adulti 20 gocce corrispondenti a 60 mg fino a tre volte al giorno ad intervalli di almeno sei ore a di diversa prescrizione da parte del medico bambini fino a tre somministrazioni giornaliere distanziate da almeno sei ore come da schema seguente peso kg numero di gocce per ogni somministrati peso kg numero di gocce per ogni somministrazione 7 10 3 29 31 10 11 13 4 32 34 11 14 16 5 30 5 37 12 17 19 6 38 40 13 20 22 7 41 43 14 23 25 8 44 46 15 26 28 9 superiore a 46 20 a giudizio del medico i dosaggi sopra riportati possono essere raddoppiati sino comunque ad un massimo di 20 gocce tre volte al giorno le gocce devono essere preferibilmente diluito in mezzo bicchiere d'acqua il trattamento dovrebbe essere continuato fino alla scomparsa della tosse o secondo la prescrizione del medico tuttavia se dopo due settimane di terapia la tosse dovesse ancora essere presente è consigliabile interrompere il trattamento e chiedere consiglio al medico infatti la tosse è un sintomo e andrebbe studiata e trattata la patologia causale popolazione pediatrica non somministrare a bambini di età inferiore a due anni vedere paragrafo 43 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti la somministrazione del farmaco deve essere evitata nei pazienti con broncorrea e con ridotta funzionalità mucociliare sindrome di cartagener di scinesia ciliare gravidanza e allattamento vedere 46 non somministrare a bambini di età inferiore a due anni avvertenze speciali e precauzione di impiego l'osservazione che i profili farmacocinetici della levodropropizina non sono marcatamente alterati nell'anziano suggerisce che correzioni di dose o modifiche degli intervalli tra le somministrazioni possono non essere richiesti nella terza vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione gli studi di farmacologia animale hanno dimostrato che l'evodropropizina non potenzia l'effetto farmacologico di sostanze attive sul sistema nervoso centrale esempio benzodiazepine alcool fenitoina imipramina nell'animale il prodotto non modifica vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere le voto stosse durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere le voto stosse durante la gravidanza e l'allattamento gli studi di teratogenesi riproduzione e fertilità così come quelli peri e post natali non hanno rivelato effetti tossici specifici tuttavia poiché negli studi tossicologici nell'animale alla dose di 24 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare barra o sull'uso di macchinari tuttavia poiché il prodotto può anche se raramente causare sonnolenza vedere 48 usare con cautela in quei pazienti che intendono condurre veicoli o manovrare macchinari informandoli di questa possibilità effetti indesiderati durante il trattamento con l'evodropropizzina si possono verificare palpitazioni tachicardia nausea vomito diarrea eritema le reazioni riportate come serie sono orticaria reazione anafilattica la maggior parte delle reazioni avverse vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non sono stati segnalati effetti indesiderati significativi dopo somministrazione del farmaco fino a 240 mg in somministrazione singola e fino a 120 mg tid per otto giorni consecutivi sono noti casi di sovradosaggio in bambini di età compresa tra due e quattro anni si tratta di casi di overdose accidentale tutti risolti senza conseguenze nella maggior parte dei casi i pazienti hanno manifestato dolore addominale e vomito ed in un caso dopo l'assunzione di 600 mg di levodropropizzina la paziente ha manifestato sonno eccessivo e saturazione d'ossigeno diminuita in caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche istituire immediatamente una terapia sintomatica ed applicare le solite misure di emergenza lavanda gastrica pasto di carbone attivo somministrazione parenterale di liquido eccetera se del caso proprietà farmacodinamiche categoria farmaco terapeutica preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento sedativi della tosse at r 0 5 d b 27 levodropropizzina è una molecola ottenuta per sintesi stereospecifica e corrisponde chimicamente a s 3 4 fenilpi per azin 1 il propa 1,2 di olo e proprietà farmacocinetiche studi di farmacocinetica sono stati condotti nella ratto nel cane nell'uomo l'assorbimento la distribuzione il metabolismo e l'escrezione sono risultati molto simili nelle tre specie considerate con una biodisponibilità dati preclinici di sicurezza la tossicità acuta per os e rispettivamente di 886 5 mg barra chilogrammi 1287 mg barra chilogrammi e 2492 mg barra chilogrammi nella ratto topo e cavia l'indice terapeutico nella cavia calcolato come rapporto dl 50 d 50 dopo somministrazione elenco degli eccipienti glicole propilenico xylitolo sodio saccarinato metilparahidrossibenzoato aroma frutti di bosco aroma anice acido citrico anidro acqua depurata farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di levotus tosse a base di levodropropizzina sono levodropizzina zentiva gocce levotus sciroppo tautux fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmama x ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato